Il Vitalizio, prima parte, dalla decima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Joemi. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il Vitalizio. Prima parte. Capitolo 1. Con le braccia appoggiate sulle gambe discoste e lasciando pendere come morte le mani terrose, il vecchio marabito sedeva sul logoro murello accanto alla porta della roba. Casa e stalla insieme, col pavimento fatto coi ciotoli del fiume, dove non mancavano. Quella vecchia roba cretosa e annerita gli faceva sentire ancora per poco il suo alito. Quell'odor grasso e caldo del concio, quel tanfo secco e acre del fumo stagnato, che erano per lui l'odore stesso della sua vita. contemplava intanto il suo podere, sbattendo continuamente gli occhietti vitrei infossati, che gli restavano duri e attoniti, quasi a dispetto delle palpebre. Sotto il cielo velato, gli alberi stavano immobili, come se, sospesi nella pena con cui il vecchio padrone ora riguardava, così dovessero durare anche quando egli non ci sarebbe stato più. Qualche gazza appostata, però, pareva sghignasse beffarda, a quando a quando, mentre di tra le stoppie riarse, sui piani e i poggi delle quote, le calandre alternavano il loro ciaucìo stridulo gioioso. S'aspettavano le prime acque, dopo le quali sarebbe cominciato il tempo delle fatiche per la campagna, la rimonda, la ratura, la semina. Tre volte Marabito scosse la testa, perché ormai non erano più per lui quelle fatiche. Lo riconosceva da sé. Tanto che, entrando col marzo i mesi grandi, aveva detto a sé stesso «Questa sarà l'ultima saggione». E sera mietuto l'orzo e abbacchiate le mandorle, lasciando ai nuovi padroni la bacchiatura delle olive e la vendemmia. Quel giorno, appunto, dovevano venire a prendere possesso del podere. Avrebbe fatto loro la consegna e addio. «La morte, quando il Signore comanda, verrà a picchiarmi alla porta lassù». Alzò gli occhi, così pensando, a Girgenti, che sedeva alta sul colle, con le vecchie case dorate dal sole, come in uno scenario, e cercò nel suo borgo rabato, che pareva il braccio su cui si appoggiasse, così lunga sdraiata, se gli riusciva a scorgere il campaniletto di Santa Croce, che era la sua parrocchia. Aveva là presso un vecchio casalino, dove avrebbe chiuso gli occhi per sempre. «E presto sia», sospirò, «come avvenne a Ciuzzo Pace». Prima di lui, Ciuzzo Pace aveva ceduto per un vitalizio di una lira al giorno l'attiguo poderetto al mercante Scinè, soprannominato il Maltese, e dopo appena sei mesi era morto. Ora il silenzio, che pareva fervesse lontano lontano, d'un sordo ronzio di mosche, che pure erano vicine, dava arcanamente il senso di quella morte. Ma il vecchio non ne aveva sgomento, piuttosto come un'angoscia. Era solo, perché non aveva mai voluto né donne né amici. Sentiva pena per quel suo podere, a lasciarlo dopo tanto tempo. Conosceva gli alberi uno per uno. Li aveva allevati come sue creature. Lui piantati, lui rimondati, lui innessati. E la vigna, tralcio per tralcio. Pena per il podere, e pena anche per le bestie, che tant'anni lo avevano aiutato. Le due belle mule, che non si erano mai avvilite a tirar l'aratro per giornate sane. La sinella, che valeva più delle mule. E Riro, il giovenco, biondo come loro, che tirava da sé, senza benda né guida, l'acqua del pozzo. Piano piano, come egli le aveva emmaestrato. La noria, a ogni giro della bestia, dava un fischio lamentoso. Egli, da lontano, contava coi fischi. Sapeva quanti giri ci volevano a riempire i vivai, e si regolava. Ora addio, Riro. E il fischio della noria, da quel giorno in poi, non l'avrebbe più udito. Sette, contò intanto, che, pur tra i pensieri, il conto dei giri, per la lunga abitudine, non lo perdeva mai. Le mule e la sinella erano impastogliate sull'aia a rimpinzarsi di paglia. Paglia quanta ne volevano. Anche adesso, il vecchio marabito rivolse uno sguardo. Come le avrebbe trattate il nuovo padrone? Alla fatica erano avvezze, povere bestie, ma anche alla loro razione d'orzo e cruschello, ogni giorno, oltre la paglia. Oh, ma che avevano quel giorno le calandre? Strillavano sui piani più del solito, come se sapessero che il vecchio doveva andarsene e lo salutassero. Dallo stradone, tutta un tratto, venne un allegro rumor di sonagli, ma il vecchio si cangiò in volto. La carrozza, eccolo, disse, e andò incontro al nuovo padrone, tirandosi sulle spalle la giacca che teneva appesa addosso, con le maniche penzolanti. Capitolo 2 Da cassetta, Grigoli, il garzone che Dommichelangelo Scinè teneva di guardia al poderetto già di Ciuzzo Pace, gli gridò «Allegro! Oh, zi marà!» Ma allegro lui, semmai, Grigoli, che da quel giorno avrebbe mangiato a due greppie, abbattuto il murello di cinta che separava il podere di marabito da quello del povero Pace. «Fortuna e dormi!» Si era cattivata la fiducia del maltese, chissà poi perché. Così tracagnotto, con gli occhi tondi e ridenti e quella puntina di naso che gli salzava quasi incuriosita all'insaputa della faccia da pacioccone, senza malizia. Ma l'aveva eccome la sua malizia anche lui. Bastava guardargli quel naso. Intanto, con l'aiuto del vetturino, don Michelangelo poté scendere dalla carrozza. Uno di quei sganasciati l'andò d'affitto con l'attacco a tre, che puzzano di rimessa lontano un miglio e servono con gran fracasso di sonagliere per le scampagnate. Ne scese con lo stesso stento la moglie, sì donna Nela, e subito, prendendosi con due dita la veste, cominciò a spiccicarsi tutta. Poi ne scesero le figlie, due ragazzone giamelle. Sembravano tutte e quattro un tino, una botte e due caratelli. La carrozza, risollevandosi sulle molle, parve rifiatasse. I cavalli no, poveri animali, tutti imbrattati di schiuma e sgocciolanti di sudore. Servava oscenza, salutò appena Marabito. Rotto al lavoro da tanti anni, parlava poco di solito, e ora, per giunta, provava quasi vergogna, pensando che per quella cessione che faceva del suo podere, il mantenimento gli sarebbe venuto ancora da esso, ma non più in compenso del suo lavoro. Oh, si crepa, sbuffò lo scinè, asciugandosi col fazzoletto il faccione congestionato. Quattro miglia di stradone. A guardare della città, non credevo che fosse così lontano. Era una prima botta questa, da mercantuccio rifatto, la quale dava a vedere come fosse venuto col proposito di disprezzare tutto. Non per nulla la gente del paese se lo richiamava con piacere alla memoria, lacero e impolverato, su per le viúcole a sdrucciolo del quartiere di San Michele, con la balla della mercanzia sulle spalle e la mezza canna in una mano, tutto sudato, mentre dell'altra si faceva portavoce nel gridare «Roba di Francia!» Si era arricchito un poco tempo con l'usura e ora troneggiava, seduto sotto il lampadino della Madonna, dietro il lungo banco del suo negozio di panneria, che era il più grande di tutta la via Atenea. La signora Nela, dalla faccia di melanzana piantata senza collo, sopra le poppe enormi, non apriva bocca se prima non si consigliava con gli occhi del marito. Ma una delle figliuole, girando lo sguardo sul ciglione lì vicino, su cui sorgono i due tempi antichi, quello di Giunone da una parte e quello detto della Concordia dall'altra, in un soprassalto d'ammirazione scattò proprio dal cuore «Uh, bello, papà!» Il maltese la fulminò con una guardataccia. Sapeva bene il valore del podere e che maravito aveva già compiti i 75 anni. Ora, dandosi a vedere per un verso malcontento del potere e per l'altro contento dello stato di salute del vecchio, sperava di potere ancora lesinare sul vitalizio di due lire al giorno già convenuto. La terra è terra, soggetta alle vicende del tempo e due lire al giorno son due lire al giorno. Ma non gli venne fatto. Visitando passo passo il podere non ebbe proprio dove metter pecca e quell'animalaccio di Grigoli pareva glielo facesse apposta «Quà, qua, guardi qua!» e con le mani sollevava i pampini d'una vite per mostrare certi grappoli più grossi d'una poppa della signora Nela. «Quà, qua, guardi qua!» e mostrava nell'agrumeto che egli chiamava giardino certe lumie, certi portogalli la cui vista soltanto assodire ricreava il cuore. «Questo giardino, eccellenza, è vermiglio così tutto l'anno!» Michelangelo Scinè guardava e chinava la testa, brusco. Non potendo far altro o forse anche in grazia di quell'eccellenza che Grigoli non gli risparmiava fingeva di sbuffare per il caldo. «Si crepa! Si crepa!» Ma Rabito non parlava. Gli seccava anzi che parlasse tanto Grigoli essendosi accorto che lo Scinè a mano a mano si intozzava dalla bile. Più volte, infatti, come se non avesse udito i continui richiami di Grigoli, era passato diritto o s'era fermato con gli occhi socchiusi e l'indice di una mano sulla punta del naso. Quasi assorto in qualche conto complicato. Grigoli, però, senza scomporsi, si era rivolta alla sì donna Nela e alle due ragazzone. «Quà! Quà! Guardino qua!» Tanto che Marabito, alla fine, stimò prudente a munirlo. «E zitto! Via, Grigoletto! I padroni hanno occhi per vedere da sé!» Fece peggio. Grigoli, imperterrito, incalzò. «Avete ragione! La vostra bocca non parla mai! Ah! Non per vantarlo di presenza, ma la verità è verità! Un altro uomo fatto per la fatica, come zio Marabito, non c'è mai stato e non ci sarà mai! Vero maestro per la campagna, poi! Quanto a rimondare, a innestare, a potare, uguale forse sì, ma meglio di lui in tutto il territorio di Girgenti non si ritrova. «Quà! Quà! questi mandorli innestati da lui! Piante massaie come queste non ce n'è! Ogni albero tre, quattro staia l'anno, che vos scienza può contarci a occhi chiusi! E questi albicocchi qua? Se vos scienza ne assaggia il frutto, non se lo può più levar di bocca! Vera rarità! Pero questo, signorinella, fa pere grosse così! Terra come questa non ce n'è, non ci manca nulla! e marabito in coscienza se l'è meritata, che ha saputo lavorarla come Dio comanda! Peccato che ora è vecchierello! Don Michelangelo non ne poteva più, proruppe. Che vecchierello, somarone, che vecchierello! Non vedi che cammina meglio di me? Questo non vuol dire, rispose con un sorriso da scemo Grigoli. Vos scienza me padrone e non per contraddirla, ma così bello grasso, voglio dire in salute come evo scienza, non è tanto facile camminare ora qua per la vigna. La vigna era zappata di fresco e veramente ci s'affondava, col pericolo anche di slogarsi un piede. Ne insalava poi un senso d'umido, corrotto in basso nell'afa di quelle giornate ancora di sole caldo. E Don Michelangelo, stronfiando, ne soffriva come d'una smania che gli si fosse messa allo stomaco, ma era anche per la parlantina di quel man che ero là. E chetati una buona volta, parli più di un giudice povero. Il podere è buono, il podere è buono, non dico di no, ma... ma... E seguitò la frase muovendo l'indice e il medio di una mano, il che significava due lire al giorno sono due lire al giorno. Padrone mio, intervenne a questo punto maravito fermandosi. Domani all'alba io me ne andrò su al paese e stia sicuro che ci andrò a morire, perché quella che è stata finora la mia vita la lascerò qua, in questa terra. Non mi piace parlare, ma ciò che è giusto glielo debbo dire. Non creda che io stia facendo questo negozio per poca voglia di lavorare. Ho lavorato fin da quando era ragazzo di sette anni e vita e lavoro per me sono stati sempre una cosa sola. Sappia che lo faccio non per me ma per la mia terra che con me patirebbe, perché non sono più buono da lavorarla come il mio cuore vorrebbe e l'arte comanda. In potere di voscienza e di grigoletto che sa l'arte meglio di me, sono sicuro che alla terra non mancherà mai nulla e sono pronto a staccarmene ora stesso senza neanche fiatare ma se voscienza non è più contento me lo dica chiaro e non ne facciamo più niente. La signora Nela e le due figliuole non s'aspettavano quest'uscita del vecchio e lo guardarono all'occhite. Ma don Michelangelo da volpe vecchia esclamò sorridendo rivolto a Grigoli e tu mi dicevi che non parla alla grazia poi rivolto a Maravito oh che debbo dirvi dunque che siete vecchio stravecchio e in punto di morte? Come sono voscienza lo vede rispose il vecchio aprendo le braccia gli anni miei non li so so che mi sento stanco e voscienza ripeto può star sicuro che dei suoi belli denari con me non esciuperà molti prendo la via di Ciuzzo Pace che è per me la migliore e i loro signori si godranno il fondo e spero in Dio che non me lo faranno patire. Capitolo 3 Hanno abbattuto gli albicocchetti davanti la roba diceva Maravito appena 15 giorni dopo alle vicine della piazzetta di Santa Croce chiudeva gli occhi e li rivedeva tutte e tre quegli alberetti lì sulla spianata del ciglione erano così belli perché atterrarli? Certo come certo Dio questa è opera di Grigoli che per far legna dà a intendere al padrone che gli alberi sono secchi ma si ingannava non passò neanche un mese che venero a dirgli hanno abbattuto la roba la roba eh già il maltese al posto della vecchia roba voleva far sorgere una bella cascina nuova e quei tre alberetti lo impicciavano godetevi in pace il vitalizio lo esortavano le vicine tre alberetti state a piangere come se vi avessero tagliato le braccia e le bestie soggiungeva allora Marabito ma hanno detto che l'asinella l'animaluccia mia è ridotta così male che non si regge più in piedi e Riro Riro non si riconosce più chi è Riro? il giovenco credevamo che fosse un vostro figliuolo da un canto le vicine sentivano pietà di lui dall'altro certe volte non potevano tenersi da ridere ma se adesso il padrone è quell'altro lasciategli fare ciò che gli pare piace ora appunto questo non sapeva tollerare Marabito che il maltese fosse il padrone sì ma che dovesse poi distruggergli il frutto di tante fatiche maltrattargli le bestie questo no questo il signore non doveva permetterlo e si recava in fondo al viale detto della passeggiata all'uscita del paese di dove poteva scorgere la sua terra lontana laggiù laggiù nella vallata tra i due tempi antichi guardava e guardava come se con gli occhi potesse impedire di lassù lo sterminio del maltese il cuore però non gli reggeva a lungo e se ne ritornava piano piano con le lacrime agli occhi anziché da porta di ponte preferiva prender per la via solitaria sotto San Pietro fino al piano di Ravanosella con tutto che fosse malfamata quella via per tanti delitti rimasti oscuri e a passarci sul tardi incutesse un certo sgomento i passi vi facevano l'eco perché il pendio del colle troppo ripido metteva lì quasi a ridosso i muri delle case case che sul davanti nella straduccia più su erano ad un sol piano e di misero aspetto qua di dietro avevano certi muri che parevano di cattedrale dall'altro lato in principio la via mostrava ancora l'antica cinta della città con le torri mezzo diroccate nella prima chiusa appena da una portaccia stinta e sgangherata si esponevano i morti sconosciuti e si portavano per le perizie giudiziarie gli uccisi attraversando quel tratto Marabito avvertiva realmente nel silenzio e tra l'eco dei passi come un sospetto che ci fosse qualcosa in quella via di misterioso e non gli pareva l'ora ad arrivare al piano di Ravanosella Arioso ma vi respirava per poco gli toccava di là risalire verso lo stretto di Santa Lucia anch'esso malfamato e quasi sempre deserto per riuscire a Porta Mazzara dove imboccava la via del Rabato abituato a vivere in campagna entrando nella stretta delle case si sentiva ogni volta soffocare anche se attraversava la città per la via maestra che egli non chiamava col suo nome via Atenea ma a modo di tutti e chissà perché la piazza piccola di piazza non aveva proprio nulla era una via un po' più larga più lunga delle altre serpeggiante lastricata con case signorili e botteghe in fila che fracasso facevano su quei lisci lastroni scivolosi gli scarponi imbullettati di marabito che andava curvo e cauto con l'andatura dei contadini le mani alla schiena e guardando a terra mentre la nappina della berretta nera a calza gli ciondolava sulla nuca a ogni passo si rimescolava tutto scorgendo da lontano a destra la bottega di panneria dello scinè con le quattro grandi vetrine sfarzuose e la porta in mezzo era proprio nel centro della via un poco prima del largo dei tribunali dove la gente s'affollava di più spesso don Michelangelo stava seduto davanti alla porta col pancione che pareva un sacco di crusca tra le cosce aperte e così sbracato che la camicia gli strabuzzava perfino di sotto il panciotto fumava e sputava vedendo Marabito che veniva avanti piano piano gli figgeva gli occhi addosso e pareva se lo volesse succhiar vivo con lo sguardo come la vipera un ranocchio dispettoso gli domandava sorridendo come si va come si va come vuole Dio rispondeva duro Marabito senza fermarsi e tra sé diceva a tuo dispetto voglio campare e gli veniva la tentazione di voltarsi e fargli le corna dalla via se non che poco dopo vedendosi solo nel suo vecchio casalino s'avviliva che sto più a farci zitto vecchio solido lo rimbeccavano allora le vicine per confortarlo chiamate la morte ringraziate Dio piuttosto che ha voluto darvi la buona vecchiaia ma il vecchio scoteva il capo levava una mano a un gesto di stizia che buona vecchiaia e si metteva a piangere come un bambino mi rimprovera il pane che mangio e questi quattro giorni che mi restano e voi campate cent'anni a suo marcio dispetto gli gridavano quelle a coro aprendo il fuoco contro lo scinè sanguisuga dei poveri succhiategli il sangue come lui l'ha succhiato a tante povere creature cent'anni cent'anni dovete campare il signore e Maria Santissima delle Grazie debbono tenervi in vita per farlo crepar di rabbia le ossa sa da rodere così e stropicciavano in giro furiosamente la punta di un gomito sulla palma dell'altra mano così così nello stesso tempo Don Luzzo Lorefice che era la peggior lingua di tutta la via Atenea e il farmacista di rimpetto tenevano su per giù il medesimo discorso sebbene con minore efficacia di gesti e di frasi e in tono di scherno a Don Michelangelo Scinè quel vecchio cent'anni vi campa caro maltese ma lo Scinè spingeva in su le guance e la bocca in una smorfia di incredulità stizzosa cosa strana però pure in quella smorfia le sopracciglia fortemente segnate sotto la fronte tonda come un boccale gli imprimevano nella faccia grassa stupida e volgare quasi un segno di tristezza avvilita il podere se l'era fatto stimare prima di fare il contratto due salme e mezzo di terra tutta beneficata per meno di 12.000 lire non avrebbe potuto averle Marabito 75 anni non doveva compirli più per bene che stesse quant'anni avrebbe potuto vivere ancora tre quattro abbondiamo fino a ottanta dunque da tre a quattromila lire fino a dodicimila ci correva lasciatelo campare poverello mi fa proprio piacere così il rudimento lo dava lui e agli altri anzi per rappresentare meglio la sua parte una mattina vedendo passare il vecchio davanti la bottega volle fargli cena ad accostarsi e venite qua santo dio perché mi fuggite così che male vi ho fatto nessuno a me gli rispose Marabito ma la terra io gliel'avevo raccomandata tanto avoscienza e anche le povere bestie riro riro è morto non me ne so dar pace e io esclamò il maltese non me ne parlate quel grigoli è una canaglia per colpa sua ma anche per colpa vostra un poco mia vostra vostra perché se voi col vostro brutto caratteraccio invece di fuggirmi come se v'avessi rubato mentre dio solo sa che sacrificio sto facendo a darvi queste due lire al giorno se invece di fuggirmi dicevo mi aveste aiutato coi vostri buoni consigli né io né voi saremmo così scontenti né riro forse sarebbe morto rimase abbagliato lui stesso il maltese dalle sue parole di fatti ora che ci pensava chi meglio di marabito avrebbe potuto aiutarlo a guardarsi da quell'imbroglione di grigoli ma il vecchio restò ferito ah dunque coscienza vorrebbe dire che riro è morto per me per voi certo io avrei seguito i vostri consigli senza lasciarmi menar per il naso da quello lì che si approfitta della mia inesperienza ruba a tutto spiano e fa di padrone spacca e liscia il padrone sareste rimasto voi invece da lontano e tutto sarebbe andato per il meglio io vi voglio bene e voglio che vi diate cura della vostra salute venite venite da me ci intenderemo proferì forte queste ultime parole perché le udisse don luzzo l'orefice quanto bene gli volete a quel vecchio sghignò infatti quello appena marabito si fu un poco allontanato ma se cercate di persuaderlo con le buone a morir presto il fiato ci sprecate cent'anni vi campa quel vecchio ve l'ho detto don michelangelo ripetè la solita smorfia e gli mostrò le cinque dita della minaccia ancora tanti vedrete fine della prima parte della novella il vitalizio registrazione di gioemi il vitalizio seconda parte dalla decima raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Mary J novelle per un anno di Luigi Pirandello il vitalizio seconda parte capitolo 4 ogni quindici giorni intanto Marabito si recava dal noteio noccio zagara per riscuotere le rate del vitalizio don noccio per carne ad osso non ne aveva meno dello cinè ma era molto più alto di statura un gigante panciutto che riempiva di sé tutta la stanza terreno dove teneva lo studio notarile affogata nel lardo delle garghe enormi aveva però una bionda ridicolissima faccina da bimbo con due occhietti chiari chiari e fervidi rosso e poroso come una fragola il nasetto gli spariva tra le ripiegature delle guance nella ridondanza della papagorgia gli spariva la tenera puntina del mento da stringere tra due dita per la simpatia con quel bucolino nel mezzo ho ancora quattro annunci soleva dire e mi hanno gonfiato così sempre in tempera di scherzare vedendo entrare in marabito gli domandavi con una vocetta di naso nanfara come la chiamano in Sicilia che dice che dice quell'altro archileo marabito non comprendeva quella parola archileo e restava guardarlo spattendo gli occhi il notario si spiegava meglio don michelangelo via tanto contento di voi non deve essere si comportò meglio ciuzzo pace marabito allora si strangeva nelle spalle segno che la mia terra gli è piaciuta sì ma voi vi dovreste spregare so che siete un galantuomo e gli batteva una mano sulla spalla sapeva che gli affari da un maltese da un pezzo non prosperavano più come prima e siccome gli piaceva parlare figurato per lo cinè ripeteva questo apologo un palloncino vide in cielo la luna e gli venne il desiderio di diventare luna anche lui pregò il vento che strappasse di mano al ragazzo la funicella da cui era tenuto il vento lo secondò e lo portò su su troppo su e il palloncino pa schiatto quell'ultima pazzia dal vitalizio al marabito per esempio perché il gioco gli era riuscito bene la prima volta con quel povero pace ma la morte sa essere anche buffona se le gira ah mi tenti di nuovo bene andrò da vecchio quando piacerà a me e tu paga intanto paga due lire al giorno e che sono rena erano troppe veramente per marabito che non aveva da pagare pigione di casa e per mangiare si adattava con un po' di pane e con panatico la mattina e un po' di cotto la sera ma con minestra quando non erba sola e tante volte senza olio più da bestie che da cristiani si cucinava da sé nel fornoletto dello stanzino a terreno dietro la stanza grande dove passava le giornate quel fornoletto era sotto la finestrina munita in fondo allo strombo di una grata e su quello strombo unto e affumicato erano tutti gli attrezzi di cucina e di tavola il tagame e la pentola di coccio una scodella di rozza teralia smoltata e dipinta con certe dittate di rosso e di blu che volevano essere fiori una forchetta e un cucchiaio di stagno tutte compere nuove il coltello di quelli appunta col manico d'osso marabito come ogni buon contadino lo teneva sempre in tasca anche per il solo pacifico uso da fettarsi il pane giù la stanza grande col soffitto a travicieli era divenuta gialla come la fame e la crosta dell'intonaco a una parete si era come raggrindita e cascava a pezzettini il casalino da tanti anni disabitato e chiuso aveva preso la polvere la quale appassita esalava un tanfo di vecchio che non se ne andava più ma rabito non amava quel suo casalino come non amava la città a cui prima della compagna non saliva quasi mai ora a poco a poco cominciava a riconoscerne le viuzze ma come da lontano a certi odori che lo facevano fermare perché gli ridastavano dentro svaniti ricordi dell'infanzia si rivedeva il ragazzetto trascinato per mano dalla madre e su e su per tutti quei vicoli astrucciolo acciotolati come letti di torrenti e tutti in ombra oppressi dai muri delle case sempre a ridosso con quel po' di cielo che si poteva vedere nello stretto di essi a storcere il colo che poi nemmeno si riusciva a vederlo abbagliati gli occhi dalla luce che sfogorava dalle grondai alte finché non arrivava al piano di San Gerlando su in cima alla collina ma arrivato lassù di tutta la città non scorgeva altro che tetti tetti tesi in tanti ripiani tetti vecchi di tegole logore o tetti nuovi sanguigni o rappezzati che scrondavano di qua e di là chi più e chi meno qualche cupola di chiesa col suo campanile accanto e qualche terrazza su cui spattevano al vento e sparbagliavano al sole i panni stesi ad asciugare della madre non aveva buoni ricordi era una donna alta stecchita di pochi capelli con certi occhi cupi adirati a un colo lungo e sotto il colo ricordava un po' di gozzo come le galline rimasta vedova presto si era rimaritata con uno di montaperto e lui ragazzo di sette anni era stato messo a lavorare in compagna da un compare da padre uomo bestiale rosso di pelo che con la scusa da maestrallo lo picchiava ogni sera senza ragione ricordi lontani quasi senza più immagini anche degli anni passati in America a rosario di Santa Fe oltre l'impressione del tanto e tanto mare che aveva corso per arrivarci e trovare che là di giugno era inverno e di Natale era estate tutto alla rovescia non serviva ricordi si era trovato tra compaesani emigrati con lui e condotti in branco a lavorare la terra che dappertutto la stessa come le stesse dappertutto sono le mani che la lavorano e lavorando lui non aveva mai pensato a niente concentrato tutto nelle sue mani e nelle cose che esse adoperavano per il lavoro da compiere per più di quarant'anni in quel appezzamento comperato col denaro che era riuscito a ragruzzolare laggiù tra lui e l'albero da potare o la zappa da raffilare o il fieno da falciare non si era mai messo nulla di mezzo a frastonarlo e fuori del filo acciaiato e lucente di quella zappa e il taglio della sua ronca e della sua accetta sul ramo di quell'albero e il frusciare dell'erba fresca appena stendeva la mano per acciuffarla e l'odore e l'odore che quel fieno spruzzeva reciso dalla sua falce non aveva né visto né sentito mai altro tutte piene di cose da fare allora le sue giornate anche quando il signore mandava la buona acqua sulle terre assettate bisacce da rattoppare canestri e cestoni da accomodare zolfo da pestare per la vigna a vedere ora là in un canto della stanza qualche resto dei suoi attrezzi rurali una vecchia falce arrugginita appesa ad un chiodo accanto all'uscio che metteva nello stanzino provava in quell'ozio che per lui era vuoto vuoto della mente e vuoto dal cuore un tale avvilimento che andava su nella stanza a solaio a ragricchiarsi sullo strapunto di palia per terra come un cane ammalato non poteva vedersi là tra tutte quelle femmine e quei ragazzi della piazzetta di Santa Croce la Zamila che era la meglio dal vicinato e dettava legge a tutti placida placida fina e pulita come una signora la zagapita che pareva una pentolaccia squarciata con tanto di pancia come se fosse sempre gravida la mia Croce che strillava dalla mattina alla sera non solo ai cinque figlioli che non le lasciavano addormentare lo sesto sempre attaccato a quella pallancica cenciosa che quando se la cavava dal corpetto faceva sputtare dallo schifo ma alle otto galline e al gatto e al porchetto che allevava in casa di nascosto le guardie municipali e la gna carminilla detta la spiritata e la zà gesa detta la mascolina e tutte le altre che non finivano mai noto come era che egli non aveva mai voluto sapere di gonnelle nemmeno da giovine tutte queste donne provavano ora per lui un curioso sentimento che un po' le irritava sotto sotto e un po' le faceva sorridere di nascosto specialmente certe volte che lo vedevano impacciato e scontroso ripararsi ancora e schermirsi da alcune innocenti attenzioni che sapendolo solo volevano usargli nessuna parte di spregio in quel sentimento che anzi erano disposte a riconoscergli una certa furberia per aver dimostrato di comprendere ciò che di solito la cara minchionaggine degli uomini non comprende che cioè quello che esse danno e che per gli uomini è tanto tanto che perfino ci fanno le pazzie per loro è meno che niente anzi il loro stesso piacere ora non esserselo preso questo piacere per non darlo alle donne pagandolo come tutti gli altri uomini lo pagano per loro era un fondo d'assaggio e provavano soddisfazione a fargli vedere che tuttavia erano pronte a servirlo dietamente pur non avendo mai avuto nulla da lui c'era poi più palese un altro sentimento che non era tanto di carità per lui quanto di stizza contro il mattese e di pena ancora viva per quel povero ciuzzo pace morto appena sei mesi dopo il contratto di vitalizio questa volta quella sanguisuga dei poveri non doveva averla vinta e curavano a gara marabito quasi impegnante davvero a farlo vivere cent'anni per far la vendetta di quell'altro capitolo 5 se non che quella canaglia del maltese doveva certo essere venuto a patico diavolo altri cinque anni e difatti ecco che è entrato da pochi giorni nel suo ottantesimo anno marabito a malò vedendo quella mattina rimanere chiusa la porta del casolino le vicine impensierite dopo aver bussato a lungo in vano con le mani con le ginocchia coi piedi mandarono a chiamare le guardie restando nell'attesa davanti la porta a chiamare in tutti i modi il vecchio oh si marà vecchiuzzo nostro date almeno la voce forzata la porta corsero su nella stanza a solaio ormai certe di trovarlo morto no no agli occhi aperti agli occhi aperti lucenti però e imbambolati dalla febbre dio scottava e là per terra come un cane su quello strapunto di palia per prima cosa pensarono di trasportarlo giù nella stanza terreno perché avesse almeno un po' d'aria e non fosse mangiato dai topi era venuto qualche volta gli approntarono alla meglio un letto chi prestando i trespoli chi le tavole chi una materassa e un paio di lenzuola pulita e una coperta e mandarono per il medico la zamila intanto aveva sentenziato che era una pomonite ma di quelle proprio coi fiocchi la gna croce però strillando al solito suo con le braccia levate pomonite levatevi che medico è medico questo è tutto malocchio lasciate fare a me e con l'aiuto della zagapita e della gna carmenila si mise a parare il letto appena levato appendendogli intorno ogni sorta di scongiuri sfere di cavallo corna di capro sacchetti scarlati pieni di sale requisì poi tutte le granate del vicinato ed appoggiò con la scopa all'insù al muro del casalino di qua e di là della porta come a guardia dell'entrata quando il medico vide quel letto così parato si indignò levatevi subito con queste porcherie confermò con molta soddisfazione della zamila che era caso di pomonite e grave e consigliò che l'infermo fosse portato con tutte le cautelle all'ospedale ma a questo le vicine si apposero con vivaci proteste che c'erano loro per assisterlo di giorno e di notte curarlo amorosamente secondo le prescrizioni senza bisogno di portarlo all'ospedale dove i poveri andavano soltanto per far studiare i signori dottori e morire andato via un medico appena la zamila fece l'atto di dire vedete che avevo ragione io e la mia croce le piantò in faccia due occhi così e corse in casa a prendere la mantellina gridando alla zagapita fatemi il favore di dare un occhio alla casa e a queste se creature tornò di lì a poco con la malanotte che era una vecchia strega famosa per lavare il malocchio nera come la pece con certi occhi da lupa e una bocca enorme da cui usciva una vociaccia rocca maschile costei si fece portare una scodella piena d'acqua e un'ampollina d'olio ordinò che si chiudesse la porta e che l'infermo fosse tenuto a sedere sul letto poi accese un cero pose sul capo al vecchio la scodella e vi fece cadere pian pianino una goccia d'olio lì sull'acqua in mezzo tutt'intorno le vicine guardavano trattenendo il fiato con gli occhi fissi su quella goccia d'olio galleggiante la malanotte si mise a borbottare incomprensibili scongiuri e quella poco a poco cominciò a spandersi a dilattarsi vedete vedete nella scodella il lume incerto del cero tramolava un disco lucente come una luna le vicine si erano rizzate sulla punta dei piedi alle bite qualcuno si picchiava il petto con le pugna dallo stupore la malanotte buttò alla fine l'acqua della scodella in un cattino tutto ma l'occhio accumulato versò altra acqua nella scodella sul capo del vecchio vi fece cadere un'altra goccia d'olio la quale questa volta si dilattò un po' meno agli scongiuri ripetè altre volte quest'opera di magia finché la goccia non rimase qual era galleggiante in mezzo alla scodella e allora la malanotte annunciò l'ho liberato e adesso a quel canaccio ci penso io nessuno poteva lavare dal capo alle vicine che il vecchio fosse guarito per opera della malanotte vero miracolo e quando poco dopo si sparse la notizia che al maltese era sopravenuto un male in cui neppure i medici sapevano vedere chiaro giusta vendetta della strega pensarono e ci avrebbero messo le mani su fuoco ma Rabito si era levato da pochi giorni quando venne a sapere della malattia del maltese come avrebbero potuto mai immaginarsi le vicine che questa notizia dovesse fargli tanta impressione lo videro piangere siate ammattito e che ve ne importa se muore ha tirato ad ammazzar voi e si è ammazzato lui invece da sé ora se la moglie e le figliole non vi vogliono dare ciò che vi spetta dovranno restituirvi il podere non abbiate paura ma io non piango per me protestò vecchio per me provvederà Dio ma fligo per lui che alla fin fine è padre di famiglia e tanto più giovane di me e appena ebbe notizia che il mattese nonostante il grave stato in cui si trovava si era fatto trasportare per forza giù al negozio su una seggiola stimò dover suo andargli a far visita non erano amici ormai non si aspettava povero vecchio d'essere accolto a modo d'un cane seduto presso il banco lo scinè appena lo vide entrare diede un pugno e orlò tentando di levarsi in piedi avete il coraggio di comparirmi davanti fuori uscite fuori assassino cacciatelo via i commessi di negozio accorsero ad afferrarlo per le braccia per il petto per le spalle e lo spinsero sulla strada mentre il povero vecchio s'affanava a ripetere ma che colpa ci ho io se la morte non m'ha voluto non si può fare apposta non è mancato per me capitolo 6 tra fasci di vetrici di vinci di vimini lunghi come serpenteli ma Rabito passava ora la giornata ad intracciar panieri corbelli cofani e cesti per consiglio delle buone vicine l'ozio vi fa male non ci siete a vezzo codesto e lavoro lieve e vi serverà da passatempo è lui svelto come un giovanotto bisognava vederlo col lavoro gli è ritornato l'allegria quando ne avrò fatti parecchi ogni mattina me ne andrò in giro a venderli ceste corbelli panieri voglio fare la dote ad annicchia annicchia era una bambina orfana di padre e di madre che una delle vicine la zammila si era tolta in casa e trattava da filuola le volevano bene tutti lì nella piazzetta di santa croce e perciò questa promessa del vecchio di farle la dote fu accolta con gioia ogni mattina le vicine aiutavano Marabito a caricarsi delle sue ceste caricato egli si faceva il segno della croce e provava il bando ceste corbelli panieri poi si voltava a domandare va bene così benone rispondevano quelle ridendo e Dio vi accompagni si marà e non dimenticate di passare davanti la bottega di quel galanduomo e strullate forte allora così la faccia gli diventerà più verde dalla bile ma no questo no Marabito non voleva farlo quantunque il maltese l'avesse trattato a quel modo l'ultima volta per via Atenea doveva passare per forza ma quanto più a largo gli fosse possibile dalla bottega di colui e zitto che quegli non lo disse neppure da lontano non gli pareva giusto fargli dispetto tanto più che lo sapeva in stato di giorno in giorno più grave ostinato tuttavia a star lì nella bottega a morire lì gliene rincresceva sinceramente ma più gli rincresceva che sconoscendo i suoi sentimenti il maltese non lo chiamasse più come prima per parlargli della campagna da che si era ammalato non ne aveva quasi più notizie per averne doveva aspettare che venisse su in città grigoli di tanto in tanto e quelli per lui erano giorni di festa domandava di quel tal mandorlo di quel tale olivo e della vigna e dell'agrumetto e non gli importava che la terra non fosse più sua pur che facesse il suo dovere e lasciando contento il nuovo padrone si facesse amare da lui di me non è contento sia almeno contento di lei e le mule come stanno le mule stanno bene anche l'asinella è morta ho saputo pazienza se l'avate di patire le bestie figlio mio guardale bene negli occhi ti accorgerai che la fatico la capiscono la gioia no e dava a grigoli i buoni consigli che era solito di dare a moltese prima della rottura bara grigoletto se non cadono le prime acque non rimondare la pianta ti resta ferita e l'acqua le può far male e un'altra cosa ti dico appena piove rompi la terra e sta ad aspettare che l'erba schiumi di nuovo poi passa l'aratro e il terreno ti verrà netto e allora semina ma dimmi non sai dirmi nulla nulla rispondeva grigoli scorlando le spalle che volete che vi dica ogni notte canta il gufo laggiù il vecchio alzava le lunghe sopracciglia e chiudeva gli occhi scottendo il capo segno di buon tempo e se questa luna di settembre non ci porta acqua siamo rovinati grigoletto tutta l'annata se ne andrà leggera si scorge l'isola di pantelleria sul tramonto in fondo in fondo al mare grigoli rispondeva di no capo abbiamo guai se si scorge pantelleria certo l'acqua sta per via regola che non falla nelle nostre campagne portifichi d'india al padrone tieni versali qua in questi due panieri nuovi te li regalo io se avesse saputo che il maltese da lì a poco quei due panieri nuovi li avrebbe fatti saltar dalla finestra ma roba di colui in casa non ne voleva ietatore peggio gridava col sangue agli occhi a grigoli vedi come m'ha ridotto fattura della malanotte per ordine di lui l'ho saputo e se muoio mia moglie è avvisata in galera devono andare in galera tutte e due assassino premeditato altro che cerosi epatica mi fanno ridere i medici e voltandosi alla moglie alzava una mano in segno di minaccia come per ricordarle guai a te se non lo fai la signora Nela rossa come un peperone si mordeva il labbro per non piangere in presenza del marito sentiva spezzarsi il cuore nel vederlo ridotto in quello stato proprio agli estremi credeva anche lei che la malanotte e il marabito fossero cagione di quella sciagura e quando di lì a pochi giorni il mattese pur protestando nel delirio dell'ultima febbre che non voleva morire morì davvero e la chiese consiglio era un avvocato se non fosse il caso di agire contro i due assassini ma rabito quel giorno vedendo le tre porte del negozio serrate con la fascia nera di traverso in segno di lutto rimase un pezzo quasi inchiodato sull'astrico della via se ne tornò al rabito come un cane bastonato le vicine si radunarono in grande assemblea discussero animatamente su ciò che al vecchio convenisse di fare e alla fine decisero di mandarlo dal notaio zagara raccomandandogli però di tenersi ben fermo nei termini del contratto che era per lui una botte di ferro come esclamò noccio zagara vedendosi davanti il vecchio con la beretta in mano non v'hanno ancora messo in prigione ma rabito lo guardò dapprima stordito poi sorrise emestamente e disse la morte in prigione eccellenza che colpa ci ho io voi e la malanotte come no replicò il notaio la morte era venuta a casa vostra e voi d'accordo con la strega l'avete invece mandata da don michelangelo tutto paese lo dice e già la verova caro mio sta passando per voi per me oh oh non facciamo storie perché io semmai non c'entro né punto né poco rimbeccò il vecchio incrociando le braccia sul petto glielo giuro signor notaio sulla salute dell'anima mia non si accorgeva che il notaio voleva fargli paura per prendersi gioco di lui ah vedete confessate voi stesso che il maleficio c'è stato ne farò testimonianza davanti ai giudici io gridò allora marabito come smarito all'improvviso nello spavento io ho confessato ma se non ne so nulla io ero un fin di vita io in galera per giunta mi vogliono gettare levarmi il podere e gettarmi in galera ad 81 anni perché non sono morto come quel poveraccio di ciuzzo pace dopo sei mesi ma c'è la giustizia divina per i poverelli e già se n'è vista la prova è morto lui invece lui che aveva tirato ad ammazzare me basta basta disse il notaio che non ne poteva più dal lidere speriamo che non ne venga nulla ci sono altri guai però eh non vi siete contentati di sparazzarvi da lui soltanto c'è anche un mondo d'imbrogli nell'eredità marabito già messo in guardia dalle vicine currugò le ciglia imbrogli non voglio saperne per me c'è il contratto che parla chiaro mi ripiglio la terra eh vedremo sospirò lo zaggara alzandosi lasciate che vada dalla vedova e spero di accomodare ogni cosa tornate da me questa sera in casa della signora Nella il notaio trovò un medico che venuto per una visita di condolianza s'affannava a ripetere ma no ma no signora sciocchezze non ti arretta caso tipico di cirrosi apatica caso tipico e aveva sulle labbra un sorriso di compattimento per l'ignoranza dell'enorme signora andato via al medico la signora Nella ebbe come un terramoto nelle poppe che alla fine erupe spaventosamente in singhiozzi e strili un'ira di dio noccio zaggara soffriva il contagio dal pianto vedendo sussultare quella montagna di carne anche la sua si mise a sussultare come per un altro terramoto ma subito si ozzò irritatissimo e quasi per castigare il pianto di sé e nella verova esclamò e questo è nulla signora mia c'è di peggio di peggio l'esclamazione non giovò e allora don noccio risolutamente venne a piantarsi di fronte alla signora Nella o le si calma un momento signora o io me ne vado lei è madre di famiglia e deve pensare alle sue figliole parliamo d'affari come se fossero roba da ridere gli affari la signora Nella appena venne a sapere che la posizione finanziaria del defunto marito non solo era scossa ma anche mezzo rovinata se prima piangeva ora levò certi strili da spaccare i muri della casa noccio noccio zagra pensò pensò di traviar la furia di quella disperazione rovesciandola addosso al marabito per carità non me ne parli urlò la signora Nella levando le braccia se la buona anima avesse voluto darmi ascolto sospirò Nuttaio intanto cara signora bisogna pure parlarne che vuol fare per me è come lasciarsi aperta una vena e perdere sangue a goccia a goccia gutta cavata lapidam mai più mai più esclamò la vedova quell'assassino è capace di far morire anche me e le mie figliole via via non voglio più sentirne parlare bene concluse il notaio in questo caso avrei da presentarli una proposta c'è già chi si assumerebbe gli impegni del contratto con Marabito un amico mio gli feci notare che il povero don Michelangelo pagò per sei anni il vitalizio dolentissimo mi rispose l'amico ma chi glielo fece fare peggio per lui che pagò gli parlai allora della cascina nuova che costa già parecchie migliaia di lire e non è ancora finita in groppa anche questa no per la cascina dice sarebbe disposto a dare qualche cosa da tre a quattro mila lire ora se lei accetta questa proposta ci sarebbe da cogliere come su dirsi due piccione ad una fava e cioè liberarsi dal jettatore e di un vecchio debito come lei ha potuto vedere dalle carte che le ho presentate il povero don Michelangelo mi doveva cinque mila lire le tre o quattro mila speriamo che siano quattro che un nuovo contraente darà per la cascina andrebbero non a scomputo ma a saldo dal mio credito io mi contento è contenta lei contentissima la signora Nela e il notario se ne tornò allo studio che era già sera chiusa ma Rabito lo aspettava don Noccio come lo vide gli posò le mani sulle spalle e disse traendo un gran sospiro una volta c'era un padre che si lamentava così non piango perché mio figlio perde a Duoco piango perché vuol rifarsi giocando ancora ero in credito di 5.000 lire con Maltese per non perderle sto commettendo la più grossa pazzia della mia vita sedete quanti anni avete ottantuno rispose ma Rabito sedendo e non siete ancora soddisfatto che intenzione avete il vecchio rimase a guardarlo senza comprendere ah fate finta di non capire campate troppo caro mio brutto vizio e dovreste levarvelo la Rabito sorrise e alzò una mano ad un gesto vago la vita eccellenza disse pare lunga ma passa a me è passata come stando affacciato ad una finestra ben non esclamò Don Noccio avete intenzione di starci affacciato ancora a lungo a codesta finestra per me rispose Dio vecchio se la morte viene a chiudermela anche domani mi fa piacere morire sì eccellenza ci vuol niente ma campare apposta non si può se Dio vuole deve dirlo lui e io sono pronto che comandi ha da darmi il notaio gli diede convegno per il giorno appreso avrebbe rinnovato il contratto dal vitalizio assumendosi lui gli impegni del maltese purché gli disse aprendo le braccia abbandonando a quel gesto la frase il vecchio dalla via alzò un dito al cielo pieno di stelle e poi congiunse le mani per significare preghi il signore fine seconda parte della novella il vitalizio il vitalizio terza parte dalla decima raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org novelle per un anno di Luigi Pirandello il vitalizio terza parte capitolo 7 quando la signora Nella venne a sapere che l'abico di cui le aveva parlato un ottaio zagara a proposito del vitalizio era proprio lui un ottaio stesso parve addirittura che volesse arrabbiare già sosteneva che Don Noccio doveva essersi mangiata mezzo l'eredità del marito era mai possibile che il più ricco mercante del paese avesse lasciato la famiglia in così tristi condizioni la prova eccola lì dal resto o zagara non aveva avuto coraggio di confessarli che il contratto col vecchio l'avrebbe rovinato lui per conto suo a quei patti davvero giudeo e se lo rinnovava per conto suo non era segno che l'affare era buono approfittarsi di una povera vedova di due poveri orfane gridava la gente che veniva a condolersi della sciagura azionaccia che grida vendetta davanti a Dio ladro ladro causa d'ogni male non era più un marabito adesso ma un ottaio fidava in Dio però che quel podere dove la santa anima del marito aveva buttato tanti denari quel podere come non se l'era goduto lei non se lo sarebbe goduto neanche colui e un giorno mandò a chiamare il vecchio marabito lei si presentò tutto afflitto e imbarazzato la signora Nella appena lo vide rinnovò i pianti e i strili poi proruppe vedete vedete che avete fatto il vecchio aveva anche lui le lacrime agli occhi non piangete non piangete gli gridò subito con rabbia la signora Nella ad un solo patto posso perdonarvi a patto che facciate a lui a quel brigante e ciò che facceste a mio marito scordicatelo vivo fatelo morire prima di voi e vi perdono non va rischiate di morire ora sapete non deve goderselo il podere quel brigante non deve berselo il sangue di mio marito se siete cristiano se avete coscienza se vi preme l'onore campate campate sempre in salute mi raccomando vegeto è forte finché egli non crepi avete capito cilenza sì come voscienza comanda rispose il vecchio investito stordito da quella furia rabbiosa di parole ma signora mia mi creda sono mortificato e Dio solo sa quello che provo dentro di me in questo momento potevo mai credere potevo mai aspettarmi che dovessi campare tanto e altrettanto altrettanto dovete campare riprese con uova furia la signora Nella per castigo di quell'imbroglione datevi cura e se vi bisogna qualche cosa ditelo venite da me perfino il pane di bocca mi leverò per darlo a voi siete provvisto d'abiti aspettate ve ne darò io ora posso darvene quelli della buona anima dovete guardarvi dal freddo ora che l'inverno è alle porte aspettate aspettate e per forza vole fargli un fagotto d'alcuni abiti grevi da marito nel toglierli dall'armario piangeva si mordeva il labbro strizzava gli occhi inghiottiva aspettate aspettate ecco anche questo mantello se lo metteva sant'anima quando andava laggiù alla vostra campagna tenete tenete portatevelo vi terrà caldo vi riparerà dalla pioggia e dal vento guardatevi da prendere aria all'età vostra c'è sempre tanto ventaccio in questo nostro paese marabito non poteva fare a meno di caricarsi di quei doni che non dimostravano né carità né benevolenza per lui e se ne tornò avvilito a casalino caccia marabito che portate gli domandarono le vicine allegramente credendo che gli portasse roba per il corredo dell'orfana ma vedendo gli abiti e mantello da maltese fecero gli scongiuri di rito codesta roba vi siete presa buttatela subito via senza toccarla con le mani il vecchio scrollò le spalle e rifece pian piano il fagotto ma quella notte con gli abiti da morto in casa non potei chiudere occhio e gli parve milani che spuntasse il giorno per disfarsene dandogli nella mosina ai più bisognosi di lui gli rimase da allora come un'ombra di tristezza sul volto che si incuppiva di più in più ogni qual volta ritornava dal riscuotere le rate del vitalizio il notaio il notaio per dire la verità non lo trattava male ma sempre abbattigli in faccia la stessa cosa dal brutto vizio di campare troppo e il povero vecchio se ne cruciava non era mai stato di peso a nessuno in vita sua ed ecco che ora viveva unicamente per essere di peso a sé e agli altri quell'andare ogni quindici giorni a farsi bagare lo scotto di quel peso era divenuto per lui una vera condanna e con tutto il cuore desiderava ogni volta che ritornava che quella fosse l'ultima ma i giorni passavano passavano i mesi e gli anni la tristezza cresceva e la morte non veniva non veniva le vicine vedendolo così avevano raddoppiato le cure non permettevano che gli si indugiasse più tanto la sera a conversare con loro seduto davanti la porta del casalino rientrate fa fresco ora verremo noi aspettavano che i loro uomini ritornassero dal lavoro o su dalle campagne o dalle fornaci o dalle fabbriche la prima visita era per il vecchio e lì nel casalino dopo la magra cena si raccoglievano le sere d'inverno a tenergli compagnia gli uomini fumando a pipa le donne facendo la calza e forzavano il vecchio taciturno a parlare della sua lunga vita dall'america lontana dove era stato da giovine e dove si era adattato a fare di tutto meglio nero pane che nera fame così aveva potuto mettere insieme capitoluccio col quale tornato in patria aveva acquistato il poderetto laggiù e a mano a mano parlando degli anni lavorati il vecchio si sollevava dal peso della malinconia parlava di tutto sapeva di tutto ne aveva viste tante voi o santa maria e che sapete voi gli diceva però scrollando il capo e socchiedendo gli occhi qualcuna delle più giovani vicine siete come un bambino siete e tutte le altre donne ridevano quelle conversazioni serali non si protraevano però a lungo sia perché gli uomini dovevano poi lavarsi ai primi albori per le loro fatiche sia per non stancare troppo o vecchio si auguravano la buonanotte gli raccomandavano di serrar bene la porta e di chiamare ad un bisogno poi si scambiavano a bassa voce per via le loro impressioni sullo stato di lui cent'anni cent'anni camp com'è vero dio già poco ci manca sta benone sì sì ma tante volte anche stando così bene tutta ad un tratto a quell'età non si sa mai muoiono come gli uccellini e si voltavano a guardare costernati la porta chiuse dal casalino nella piazzetta deserta coi ciotoli lucicanti sotto la luna chissà se al vecchio domani l'avrebbe riaperta quella porta capitolo 8 per anni e anni la prima a riaprirsi all'alba nella piazzetta fu sempre quella porta era senza dubbio una beffa della morte al maltese prima ora al nottaio zagara e se ne faceva un gran ridere in tutto il paese non c'era giorno che tre o quattro curiosi non si recassero al rabato per vedere il vecchio che per castigo non moriva essendosi però formato in paese intorno al marabito una specie di leggenda che lo raffigurava ilare vegeto ossinato a compare per dispetto quei curiosi provavano a prima giunta un disinganno non vedersi invece davanti un vecchierello curvo magro umile e schivo il quale si schermiva rudamente dalla loro vista e dalle loro domande che suonavano ai suoi orecchi derisione per il povero nottaio di cui egli non solo aveva da lodarsi ma rimpiangeva sinceramente al danno che quel suo vivere increscioso e dispettoso gli arreccava senza alcun suo piacere lasciatemi stare mi sono seccato gridava avvelito e con esasperazione alle vicine che andavano a scovarlo dentro il casalino dove si era rintantato all'apparire di qualche sconosciuto nella piazzetta di Santa Croce le vicine non lo facevano per male quella curiosità di tutto il paese pareva loro di buon augurio al vecchio che esse tenevano in custodia come se qualcuno lo avesse affidato alle loro cure perché veramente un miracolo si compisse e perciò a gara lo mostravano a tutti domani l'altro 94 anni non muore più circa 20 anni addietro quando egli cioè dalla campagna era venuto ad abitare in quel casalino esse avevano ancora i capelli biondi o neri e ora eccoli qua grigi bianchi mentre il vecchio era rimasto tal quale per tutti il tempo era passato per lui solo no il tale era morto era morto o tal altro lì accanto non era dunque da dire che la morte non fosse passata per quella piazzetta ma come se la casa del vecchio per lei non ci fosse stata ma rabito ascoltava attunito quel racconto delle vicine tante volte ripetuto ma ogni volta sentendo nominare i morti dal vicinato tutti meno vecchi di lui e utili ancora alle loro famiglie si metteva a piangere silenziosamente con gli occhietti calvi risecchi dagli anni le lacrime gli scendevano giù per i solchi delle rughe fino alla bocca infossata e raggrinzita e allora levava una mano tramolante e con le dita nodose si stringeva le labbra e questa qui dicevano le vicine per distrarre subito vecchio indicando a nicchia l'altra loro protetta aveva appena due anni povera orfanella quando lui venne quassù e ora che ragazzona è il nono aveva promesso di pensare a lei ma da un pezzo in qua fa il cattivo e dimostra di non voler bene a nessuno infatti marabito di quella sua longevità si era fatta poco a poco una vera fissazione aveva davvero cominciato a credere che la morte si fosse apposta dimenticata di lui per far quella beffa che tutti dicevano già al podere tra i denari che si era presi dal maltese e quelli che tuttavia si prendevano dal notario zagara lo aveva avuto pagato e strapagato la morte dunque tenendolo ancora in piedi si divertiva proprio a fargli commettere una cattiva azione a fargli fare la parte dello scrocone ecco egli non voleva tutto il paese ne rideva come se lui ci provasse gusto a vivere così alle spalle altrui e invece no no non voleva non voleva più e le cure le raccomandazioni premurose delle vicine lo stizzivano non volevano forse ridere anch'esse alle sue spalle e si esponeva al freddo apposta usciva di casa col tempo minaccioso apposta e apposta ritornava zuppo di pioggia e si ribellava se quelli gli davano dal vecchio stolido e lo cacciavano subito dentro per farlo cambiare e mettere a letto lasciatemi stare lasciatemi morire appunto questo vo cercando mi sono seccato gli sorse perfino il sospetto che una forza arcana d'oltre tomba lo tenesse in piedi l'anima pennante di ciuzzo pace il quale piangeva certo ancora al poderetto suo perduto per pochi soldi ecco sì ciuzzo pace era ciuzzo pace che voleva essere vendicato da lui e prese a far dire ogni domenica una messa in suffragio di quell'anima in pena se si libera lui mi libero anch'io queste altre notizie confidate dalle vicine a quei curiosi venivano poi riferite al nottaio zagara il quale teneva testa come meglio poteva alle beffe che tutti si facevano di lui beffatemi beffatemi esclamava è sempre poco o danno sono sempre poche le beffe ben altro mi merito nerbate ma non mi dite male del vecchio vi prego galantomone poveretto lo so sta piangendo anche lui il castigo che io mi sono meritato gli devo non solo gratitudine ma un compenso e glielo derò se arriva a cent'anni come gli auguro vedrete musica luminaria un banchetto da farepoca vi invito tutti fin da ora non aveva parenti né prossimi né lontani poteva dunque piogliarsi il gusto di coronare trionfalmente la bestialità commessa e un giorno che scadeva la rata del vitalizio non vedendo il vecchio presentarsi allo studio s'adorlò veramente e vole recarsi al rabito per averne notizie trovò il marabito seduto al solito davanti la porta del casalino tutto raccolto sotto un debole raggio di sole invernale bel gusto a far muovere le montagne gli disse anzante calzandosi pian piano a sedere su una seggiola che una delle vicine corse ad offrirgli che vi sentite perché non siete venuto oggi allo studio invece del marabito rispose la zamilla appressandosi insieme con le altre vicine voscenza vuol sapere perché perché il nostro vecchio è stolido e ammattito no niente affatto né stolido né ammattito eccellenza disse marabito corrugando le ciglia mi sono fatto il conto la terra voscenza me l'ha pagata da un pezzo sono povero ma onesto denari non ne voglio più noccio zagara rimase un po' guardarlo ammirato poi gli disse caro vecchio mio siete più imbecille di me vi ringrazio di quanto mi dite ma non posso accettare devo pagare fino all'ultimo centesimo e pago col mio gusto e il mio piacere ma lo sa voscenza riprese marabito con ira che se non faccio così non muoio più le giuro che se non fosse peccato da un pezzo ma vedrà voscenza che verrà da sé la morte appena io non prenderò più neppure un soldo di questi denari che in coscienza non mi spettano il fondo le ripeto l'ho avuto pagato più di quanto valeva non ancora da me replicò il nottaio io porto con voi la croce da quattordici anni è vero vuol dire che finora ve ho dato eccolo qua il conto me lo son fatto anch'io vi ho dato diecimila duecento venti lire il podere fu stimato dodicimila dunque ho ancora parecchi anni da pagare e quelli che mi son presi dalla buon anima domaltese gli fece notare marabito non sono affar mio ma l'affare mi scusi l'ho fatto io o l'ha fatto voscenza oh questa è bella non sono dunque padrone di morire il nottaio alzò la testa con comica serietà no finché io non vi abbia pagato fino all'ultimo centesimo se poi volete vivere ancora tanto piacere vi prometto che ci diverteremo e se n'andò lasciando il denaro capitolo 9 uomo di parola il nottaio zagara la mattina del gran giorno il soborgo rabato fu destato dall'allegro strepitar dalla banda musicale che a suon di marcia si recava all'abitazione del vecchio centenario il casalino era stato parato festosamente di ghirlande e bandiere durante la notte mentre il vecchio dormiva nella piazzetta erano rizzati i pali per la girandola e un'altra sorpresa le buone vicine avevano preparato al loro vecchietto un abito nuovo per la festa tagliato e cucito da loro quando la folla insieme con la banda si riversò nella piazzetta la porta del casalino era ancora chiusa evviva marabito fuori fuori marabito niente la porta restava chiusa invano i vicini vi bussavano con le mani e coi piedi lo strombettio e le gran cassate furiose della banda tra il frastuono confuso delle grida e degli applausi assordava e invano di qua di là qualcuno si levava interprete della consternazione del vicinato a farceni di tacere da aspettare che il vecchio aprisse ed esse segno di vita a un tratto un nuovo grido partì dalla folla viva il nottaio noccio zagra si sbracciava con la tuba in mano a ringraziare sovrastando tutti con l'altra persona li pagava carico e gli aviva che non erano per beffa quel giorno la gente si divertiva la festa straordinaria e del divertimento gli era grata non l'avrebbe certo tenuta un maltese quella festa sì ma non l'avrebbe tenuta neanche il nottaio se avesse potuto sapore che essa avrebbe cagionato al vecchio tanto dolore e tanto avvilimento lo comprese appena pervenuto tra quel gran rimescolio di gente davanti la porta del casalino si fece far largo ordinò ai vicini di guardare l'entrata per impedire che la folla si rovesciasse dentro e picchiò la porta col bastone dando la voce il vecchio finalmente aprì e allora scoppiarono più calorosi gli applausi e le grida della folla come perché esclamò Don Noccio vedendo Marabito tutto tremante e in lacrime un popolo intero vi fa festa e voi piangete così mi ringraziate di aver voluto festeggiare i vostri cent'anni non ci fu verso di fargli intendere che quella festa non era per metterlo in berlina e quando alla fine spinto dal notaio s'affacciò alla finestrinetta sulla porta del casolino piangeva e tentennava il capo agli avviva e agli applausi della folla a nicchia gli reccò l'abito nuovo insieme con le altre vicine poi nella chiesa di santa croce fu detta una messa a cui anche il notaio volle assistere la prima e l'ultima e all'uscita spari di morterette e stamburate venne alla fine l'ora del banchetto noccio zagra aveva preso un affitto per questo venimento un magazzino a pian terreno lungo che non finiva mai da un capo all'altro correva la tavolata vi presero al posto da una parte gli amici del notaio dall'altra il vicinato marabito vi fu portato in trionfo quasi a viva forza e fu fatto sedere al posto d'onore accanto allo zagra era spallordito in mezzo alla barahonda si voltava ora verso l'uno ora verso l'altro dei commensali che lo chiamavano quei bicchieri lavati per augurargli di vivere altri cent'anni e chinava il capo in segno di ringraziamento egli solo non rideva non mangiava non beveva alcuni al principio si erano messi a forzarlo ma poi pregati dal notaio avevano smesso la festa non era per lui era per gli altri egli rappresentava lì solo i cent'anni i cent'anni che non volevano dire più nulla a pensarci veramente tutta quella balordia era nella sua squaiatagine così triste da far cascare le braccia il fiato e per giunta si volle che il vecchio parlasse facesse un brindisi dicesse almeno due parole tanto insistettero che alla fine lo fecero lavare in piedi col bicchiere che gli tramava in mano e che devo dire la mia vergogna Dio solo la vede ringrazio questo mio benefattore e non mi resta che di mettere un bando per la città che la gente nelle cui case entra la morte le dica che a Santa Croce al Rabato c'è un vecchio che da tant'anni l'aspetta che se lo venga a prendere ma a questo punto Marabito fu interrotto da lavarsi frettoloso da alcuni convitati i quali in mezzo al coro delle risa che accompagnava ogni sua parola avevano visto Notaio impalidire tutto ad un tratto e piegar sul petto il grosso testone tutti si voltarono a guardare sorsero poi tutti in piedi e s'affollarono a precipizio intorno allo zagara si credete dapprima che il frastuono il troppo ridere il vino avessero cagionato al povero Notaio quel malore improvviso tra lo scompiglio generale Noto zagara fu portato sulla stessa segola in una casa vicina sorretto da tante braccia aveva gli occhi chiusi e la bocca spalancata da cui usciva un brantolo angoscioso il lungo magazzino con la minsa tutta in disordine le seggile rovesciate restò vuoto nessuno aveva badato al vecchio centenario il quale era caduto per terra in preda ad un tremito convolso nell'atto di accorrere con gli altri dietro a colui che egli poco prima aveva chiamato suo benefattore capitolo 10 qualche rara goccia sulla tremula mano tesa poi appena percettibile il picchiettar delle prime gocce sui pampini mezzo ingialliti della vigna ora ecco le gocce infittiscono ed è un vasto crepitio continuo nonno piove il vecchio marabito china più volte il capo sorridendo a nociarello che gli sta seduto accanto sulla soglia della cascina che il maltese aveva fatto fabbricare al posto dell'antica roba grigole e anicchia marito e moglie da quattro anni sono per la campagna tornata in potere di marabito dopo la morte del notaio grigoli su per gli alberi abbacchia le ulive anicchia le raccoglie da terra poveretta è incinta di nuovo e il vecchio vorrebbe aiutare la sua figliola adottiva non gli pesano più ormai i suoi centocinque anni ma quelli non permettono e lo lasciano a guardia del bambino a cui per gratitudine hanno imposto il nome della buon'anima del notaio nonno e mamma domanda di nuovo nocerello costernato dalla pioggia adesso verrà di corsa risponde il vecchio lascia piovere che la terra ha sete e questa è acqua buona da presso e da lontano i galli annunziano viavamente quella prima rivoltura del tempo le calandre si indugino ancora sui piani quasi in dubbio che quelle nuvole non vogliono far sul serio e di tratto in tratto si scambiano qualche trillo breve come per consigliarsi scappiamo fine della novella il vitalizio grazie a tutti